È una situazione difficile, la stiamo gestendo. Mi permetto di dire questo, di ricordare ancora una volta l'importanza dei comportamenti corretti. Se non ci aiutiamo diventa difficile. Riusciamo ad andare avanti, però occorre anche la collaborazione dei cittadini sui comportamenti. Dobbiamo continuare con pazienza ad avere comportamenti rigidi. Dobbiamo andare in giro in minimo indispensabile sempre con le mascherine, se no diventa veramente difficile. Si può prevedere un ampliamento del Covid Hospital o i posti che ci sono sono quelli e si dovrà lavorare con i comportamenti corretti? I posti sono sufficienti, stiamo ponendo in essere anche delle altre strategie, però ribadisco, i comportamenti sono fondamentali. Invece per quanto riguarda gli ospedali periferici si parla di penne e popoli. Resteranno degli ospedali, come si dice in gergo, puliti o dovranno aiutare il Covid Hospital di Pescara? L'ASL e ASL Pescara penne e popoli. Penso di aver risposto.